Buongiorno a tutti, visto il grande successo, il grande apprezzamento da parte di voi della lettera del generale Carlo Favagrossa a Mussolini alla vigilia della dichiarazione di guerra del 10 giugno del 1940, mi è sembrato interessante, in parallelo alla lettura e la proseguiremo in questo senso di alcuni documenti, di alcuni fatti del 1943 primavera e estate del 1943 che non è una collezione di moda ma è un periodo ahimè tragico della nostra storia di cui quest'anno appunto si ricordano gli 80 anni, quindi faremo anche dei interessanti riferimenti sì ma in realtà parleremo anche dall'inizio dell'anno, quindi in qualche modo farò una carrellata un'oltre carrellata di ciò che è avvenuto a livello internazionale, a livello di rapporti anche tra Italia e Germania per andare a capire come si è riusciti ad arrivare a quella data fatidica, quella data purtroppo ahimè disastrosa dell'8 settembre 1943, ma torniamo indietro e torniamo alla primavera del 1940 quando tutto iniziò nella sua graduale scivolamento verso l'abisso e quindi oggi ho deciso di leggervi due comunicazioni, un promemoria e un verbale che riguardano Mussolini per quanto riguarda le direttive militari nella guerra che si sta per intraprendere anche l'Italia nel senso che l'Italia, come sappiamo, dal 1 settembre del 1939 fino al 9 giugno del 1940 sarà non belligerante, che non significa neutrale anche perché l'Italia aveva firmato un'alleanza vincolante col patto d'acciaio nel maggio del 1939 quindi era un'alleanza offensiva, difensiva, sanciva che qualsiasi stato di guerra di uno o due paesi avrebbe comportato automaticamente l'ingresso anche dell'altro e l'Italia era sostanzialmente inadempiente sotto un certo punto di vista è vero pure che vi erano come attenuante, potremmo dire questo ovviamente lo do come elemento aggiuntivo e non voglio in questo dare un giudizio morale perché poi se no si parla sempre e no, perché nel 14 abbiamo fatto così nel 39 abbiamo fatto così sono situazioni completamente diverse dal 14 e dal 39 il 14 era molto più ingarbugliata nel 39 invece la situazione era sì che era necessario la pronta, l'automatica dichiarazione di guerra a tutti i paesi con cui la Germania si sarebbe trovata in guerra ma è da dire però che vi era vincolante anche una continua collaborazione di cooperazione, di informazione a livello di Stato Maggiore cosa che i tedeschi sostanzialmente non fecero mai non avrebbero fatto neanche dopo nel senso come abbiamo letto nel diario di Cavallero ai primi di giugno del 1941 Keitel e Cavallero si parlano ma Keitel non dice assolutamente a Cavallero guarda che noi fra tre settimane attacchiamo la Russia e ovviamente già lo sapeva Keitel quindi tutta questa fratellanza d'armi tutta questa onestà tutta questa collaborazione anche i tedeschi se la lasciavano sotto le scarpe comunque questo è un altro discorso però ci inquadra alcuni aspetti di grande rilevanza arriviamo quindi con un salto indietro Roma 31 marzo 1940 promemoria segretissimo allora questi documenti che vi leggo provengono dalla pubblicazione dei documenti diplomatici italiani nello specifico il primo è della serie 9 volume terzo documento 669 e la nota ci dice che questo documento proviene dall'archivio centrale dello Stato segreteria particolare del Duce quindi diciamo che è un documento pubblicato dalla raccolta diplomatica ma proveniente da un altro archivio il capo del governo Mussolini al re Vittorio Emanuele III quindi è informato anche il re al ministro degli esteri Ciano al capo di Stato Maggiore generale Badoglio e ai capi di Stato Maggiore dell'esercito Graziani della Marina Cavagnari dell'aeronautica Pricolo quindi diciamo tutti i maggiorenti tutti coloro che dovevano essere informati su questa situazione sono stati resi partecipi pro memoria segretissimo ripeto in una situazione quale l'attuale che potrebbe chiamarsi di estrema fluidità è difficile se non impossibile fare delle previsioni sullo sviluppo degli eventi e sulle fasi avvenire della guerra bisogna dare larga parte all'imprevisto vedi guerra russo finlandese e tenere conto di quanto può accadere nella politica di paesi lontani come gli Stati Uniti o il Giappone pace quindi come egli va a definire propone pace negoziata di compromesso ipotesi allo stato degli atti tale possibilità è da escludersi è vero che forti correnti pacifisti si aggiano pubblicamente in Inghilterra e sotterraneamente in Francia ma gli obiettivi di guerra degli alleati sono tali oggi che un compromesso è impossibile esso non potrebbe che partire dall'accettazione del fatto compiuto delle conquiste tedesche e russe a nord-est ma questo non si concilia con la proclamata volontà di ricostituire la Polonia la Cecoslovacchia e perfino l'Austria una pace di compromesso può essere più agevolmente accettata la Germania non dalle grandi democrazie grazie la Germania già è in qualche modo appagata le quali tuttavia non sarebbero alieni dall'accettare il fatto compiuto del bottino polacco fatto dalla Russia se la Russia mollasse la Germania quindi già si capisce che già Mussolini nel marzo del 1940 prevede quello che sarebbe accaduto delle terre orientali che si sarebbe deciso a Yalta quindi già emergono non era un fesso nel senso qualcosa lo intuiva e lo intuiva pure bene poi che poi facesse delle scelte sbagliate per l'Italia è un altro paio di maniche che ci ha portato alla rovina vabbè so che sono anche dei difensori di Mussolini quindi mi criticheranno per questo e vabbè il signor Wells ha dopo il suo pellegrinaggio concluso che per una pace negoziati i tempi non sono ancora maturi in realtà non lo saranno mai operazioni militari terrestri è prevedibile che i franco-inglesi assumano l'iniziativa delle operazioni cioè di un attacco al West Wall sul fronte occidentale allo stato degli atti è da escludere le forze tedesche e inglesi in Francia sono molto esigue la situazione demografica della Francia non è tale da consentire le perdite gravissime che un attacco al West Wall imporrebbe quanto al morale dei soldati francesi è difensivo non offensivo i franco-inglesi sono alla ricerca di un fronte terrestre meno incomodo di quello occidentale e a tale scopo è stato preparato l'esercito di Végan ma questo famoso fronte non si delinea ancora dal punto di vista geografico geografico balcanico, caucasico, libico i franco-inglesi continueranno quindi a. a non assumere iniziativa di operazioni su terra b. a operare più controoffensivamente che offensivamente sul mare e nell'aria c. e soprattutto a rendere più ermetico il blocco attorno alla Germania ecco perché diciamo che in questi mesi la guerra viene chiamata anche fasulla nel senso che non si combatte in maniera molto decisa operazioni germaniche da parecchi mesi si parla di una offensiva germanica contro la Macinot o contro Belgio-Olanda per arrivare alla manica a ricordi logica anche questa offensiva sembra doversi escludere per i seguenti motivi a. perché la Germania ha già raggiunto i suoi obiettivi di guerra e può quindi attendere l'attacco avversario in questo Mussolini non è che ha capito molto b. perché è troppo rischioso giocare il tutto su una carta poiché se l'offensiva fallisse del tutto si concludesse con insuccesso e ci fossero perdite rilevanti una crisi interna della Germania sarebbe inevitabile dato che anche il morale del popolo tedesco è complessivamente mediocre e in taluni grandi centri come Berlino e Monaco meno che mediocre quindi udite udite Mussolini fa capire che il consenso in Germania non è così granitico è quindi probabile che fra la guerra di attacco e quella di resistenza la Germania sceglierebbe l'ultima e cioè 1. metterà tutto in opera per resistere al blocco 2. assumerà l'iniziativa di operazioni marittime e aeree sempre più vaste di contro blocco l'offensiva terrestre avrà luogo o nell'eventualità di una certezza matematica di schiacciare vittoria o come carta della disperazione se il blocco a un certo momento non consentisse l'altra via di uscita posizione dell'Italia arriviamo all'argomento più preeminente nella definizione di Mussolini se si avverrà la più improbabile dell'eventualità cioè una pace negoziata nei prossimi mesi l'Italia potrà malgrado la sua non belligeranza avere voce in capitolo e non essere esclusa dalle negoziazioni quindi già Mussolini fa capire che c'è una volontà di lucrare di sciacallaggio ma se la guerra continua credere che l'Italia possa rimanersene estranea fino alla fine è assurdo e impossibile l'Italia non è accantonata in un angolo d'Europa come la Spagna non è semi-asiatica come la Russia non è lontana da dati di operazioni come il Giappone o gli Stati Uniti l'Italia è in mezzo ai belligeranti tanto in terra quanto in mare anche se l'Italia cambiasse atteggiamento e passasse armi e bagagli ai franco-inglesi essa non eviterebbe la guerra immediata con la Germania guerra che l'Italia dovrebbe sostenere da sola è solo l'alleanza con la Germania cioè con uno Stato che non ha ancora bisogno del nostro concorso militare e si contenta dei nostri aiuti economici della nostra solidarietà morale che ci permette il nostro attuale Stato di non belligeranza abbiamo scelto l'alleato giusto quello che non ci chiede niente che si accontenta del poco che possiamo dare peccato che poi chiederà con gli interessi ecco vedete perché leggere queste cose poi ci spiega il 43 è essenziale perché se no non ce lo spieghiamo il 43 se non partiamo da qui esclusa l'ipotesi del voltafaccia che del resto gli stessi anche inglesi non contemplano e in questo dimostrano di apprezzarci apprezzarci? forse ci disprezzano rimane o ci vorrà poco per disprezzarci rimane l'altra ipotesi cioè una guerra parallela a quella della Germania per raggiungere i nostri obiettivi che si compendiano in questa affermazione libertà sui mari finestra sull'oceano l'Italia non sarà veramente una nazione indipendente e sino a quando avrà a sbarre della sua prigione mediterranea la Corsica a Biserta a Malta e a muro della stessa prigione Gibraltar e Suez risolto il problema delle frontiere terrestre l'Italia se vuole essere una potenza veramente mondiale deve risolvere il problema delle sue frontiere marittime la stessa sicurezza dell'impero è legata alla soluzione di questo problema l'Italia non può rimanere neutrale per tutta la durata della guerra senza dimissionare dal suo ruolo senza squalificarsi senza ridursi al livello di una Svizzera moltiplicata per 10 questa è una frase famosissima di Mussolini il problema non è quindi di sapere se l'Italia entrerà o non entrerà in guerra perché l'Italia non potrà a meno di entrare in guerra si tratta soltanto di sapere quando e come si tratta di ritardare il più a lungo possibile compatibilmente con l'onore e la dignità la nostra entrata in guerra a. per prepararci in modo tale che il nostro intervento determini la decisione b. perché l'Italia non può fare guerra lunga non può cioè spendere centinaia di miliardi come sono costretti a fare i paesi attualmente belligerati ma circa il quando cioè la data del convegno del Brennero si è nettamente stabilito che ciò riguarda l'Italia e soltanto l'Italia i tedeschi sanno che noi non possiamo scendere in guerra in questo momento si accontentano del nostro appoggio morale dice Mussolini pieno di guerra premesso che la guerra è inevitabile che non possiamo marciare con i franco inglesi cioè non possiamo marciare contro la Germania si tratta di fissare sin da questo momento le linee della nostra strategia in modo da orientarvi gli studi di dettaglio fronte terrestre difensivo sulle Alpi Occidentali nessuna iniziativa sorveglianza iniziativa solo nel caso a mio avviso improbabile di un completo collasso francese sotto l'attacco tedesco aveva capito tutto una occupazione della Corsica può essere contemplata ma forse il gioco non vale la candela bisogna però neutralizzare le basi aerei di questa isola ad oriente verso la Jugoslavia in un primo tempo osservazione diffidente offensiva nel caso di un collasso interno di quello stato dovuto alla secessione già in atto dei croati fronte albanese l'atteggiamento verso nord Jugoslavia sud Grecia è in relazione con questo di quanto accadrà sul fronte orientale Libia difensiva tanto verso la Tunisia quanto verso l'Egitto l'idea di un'offensiva contro l'Egitto è da scartare dopo la costituzione dell'esercito di Veigang quindi l'offensiva contro l'Egitto è da scartare lo dice adesso lo dice anche a Graziani peccato che poi dopo a luglio solliciterà questa cosa dicendo che in realtà già ci aveva pensato Balbo in realtà Balbo poi è morto e non aveva pensato a niente ma perché Mussolini il 31 marzo ha detto che non si sarebbe fatto nulla Egeo difensiva Etiopia offensiva per garantire l'Eritrea e operazioni su Jedaref e Cassala offensiva su Djibouti difensiva e al caso controoffensiva sul fronte del Kenya Aria adeguare la sua attività a quella dell'esercito e della Marina attività offensiva o difensiva a secondo dei fronti e a seconda delle iniziative nemiche mare offensiva su tutta la linea nel Mediterraneo e fuori e queste direttive che i stati maggiori devono basare i loro studi e il loro lavoro di preparazione senza perdere un'ora di tempo perché malgrado la nostra attuale non belligeranza la volontà dei franco inglesi o una complicazione impreveduta potrebbe metterci anche in avvenire immediato di fronte alla necessità di impugnare le armi allora capite bene che alla fin fine Graziani non è che avesse tutti questi torti se poi avrebbe avuto delle difficoltà ad attaccare l'Egitto sia a luglio e anche a settembre ma non finisce qui perché c'è una riunione il 29 maggio del 1940 a Palazzo Venezia ci siamo quasi ma Mussolini non è ancora del tutto convinto in Francia si combatte riunione qui è invece tratto dalla serie 9 volume 4 sempre proveniente dall'archivio centrale dello Stato però li trovate tutti questi documenti nei pdf che esistono scaricabili liberamente sul sito della Farnesina in caso modo dopo vi metto il link verbale segreto riunione presso il capo del governo Mussolini del capo del Stato Maggiore Generale Badoglio e dei capi del Stato Maggiore dell'Esercito Graziani della Marina Cavagnare e dell'Aeronautica Apricolo rispetto alla promemoria di marzo Mancaciano e il Re Palazzo Venezia 29 maggio 1940 ore 11 parla il Duce vi ho convocati questa mattina per comunicarvi quanto segue nel mio memoriale del 31 marzo quello che abbiamo letto ho spiegato una logica che la maestà e il Re ha trovato geometrica quindi il discorso di prima il problema di prima Vittorio Maggiore III l'ha trovato in una logica geometrica che non possiamo assolutamente evitare la guerra quindi secondo il Re a quanto dice Mussolini il Re ha definito che bisogna entrare in guerra che non possiamo farla con gli alleati che non possiamo farla che con la Germania rimaneva la data cioè il problema più importante da risolvere in relazioni al ritmo della guerra questa data era stata in un primo tempo fissata per la primavera del 1941 dopo la facile conquista della Norvegia e la dominazione della Danimarca io avevo già accorciato questa data ai primi settembre del 1940 adesso dopo la conquista dell'Olanda la resa del Belgio l'invasione della Francia e la situazione generale che si è determinata io ho ancora accorciato questa distanza e considero tutti i giorni buoni per entrare in guerra dal 5 giugno prossimo quindi diciamo dal 5 giugno ogni giornata è buona perché? perché ci conviene la situazione attuale non permette ulteriori indugi perché altrimenti noi corriamo dei pericoli maggiori di quelli che avrebbero potuto essere provocati con un intervento prematuro se fossimo entrati in guerra prima avrebbe fatto una figuraccia sostanzialmente entriamo in guerra adesso e cogliamo l'attimo è il momento giusto carpe diem d'altra parte a mio avviso la situazione per quello che riguarda i cosiddetti alleati cosiddetti diciamo fa anche uno sfottò lì canzona è definita scusate se era interrotto il video nell'ultima lettera che mi ha mandato Hitler poi la recuperiamo una lettera diciamo di qualche giorno prima in qualche modo lo ritroveremo quindi diciamo vediamo cosa riporta e che ho letto ieri al maresciallo Badoglio sono contenute queste affermazioni ecco vediamo cosa viene riportata in maniera sintetica la Germania ha mobilitato 220 divisioni noi ce ne abbiamo 70 così neanche in piena efficienza di queste 10 sono in Norvegia 15 in Polonia 15 o 20 sono da considerarsi provate restano 165 divisioni intatte che la Germania può lanciare in una mischia quando vuole contro 70-80 divisioni francesi perché su quelle inglesi non si può ormai contare come apporto di masse oltre a ciò superiorità schiacciante dell'aviazione germanica sulla francese meno schiacciante su quella inglese comunque superiorità indiscutibile questa realtà può essere alterata? no non può essere alterata con la produzione della Francia perché i tedeschi bombarderanno tutti i centri di produzione né con la produzione dell'America perché anche se fossero inviati i 2500 apparecchi esistenti attualmente secondo il discorso di ieri del presidente Roosevelt il portare questi apparecchi in Europa sarebbe già un'impresa difficile ed avendo i tedeschi occupati i punti delicati della costa francese anche le operazioni di esbarco sarebbero problematiche almeno nella fascia settentrionale lo stesso re del Belgio ha giudicato ed è a mio avviso pienamente giustificabile il suo atteggiamento anche a causa delle enormi sofferenze della popolazione civile il signor Pierlot è meno importante del re del Belgio è un mediocre politicante venuto fuori dalla fiducia dei regimi parlamentari per Mussolini se vieni fuori dai regimi parlamentari sei un inetto tutte le informazioni che sono unanime nel constatare questo stato di fatto è chiaro che la strategia tedesca si dirigerà verso Parigi e Londra pongono la domanda se il popolo potrà resistere successivamente sulle linee dei fiumi della Francia ora mi domando se questa resistenza non sarà affiaccata quando noi interverremo la Francia non può sperare niente prima del mio 142 e a quell'epoca le cose saranno liquidate precisato che dal 5 giugno in poi l'ora X può arrivare da un momento all'altro io confermo per quel che riguarda le direttive politico-strategiche la mia memoria del 31 marzo sul fronte terrestre non potremo fare nessuna cosa di spettacolare ci terremo sulla difensiva si può prevedere qualcosa sul fronte est caso Jugoslavia che attualmente è neutrale le nostre forze si dirigeranno verso l'Inghilterra cioè verso le sue posizioni e forze navali in porto e in navigazione nel Mediterraneo come previdi il 26 maggio 1939 la guerra aereo-marittima su tutte le frontiere questo ho confermato all'eccellenza Graziani l'altro giorno quando mi metteva sott'occhio la posizione dell'esercito considero questa situazione non ideale ma soddisfacente d'altra parte se tardassimo due settimane o un mese non miglioreremmo la nostra situazione mentre potremmo dare alla Germania l'impressione di arrivare a cose fatte quando il rischio è minimo oltre alla considerazione non essere il nostro costume morale colpire un uomo che sta per cadere no non daremo questa impressione no no quando Ciano va a quando chiama François Ponset ambasciatore di Francia François Ponset dice esattamente queste parole voi state colpendo un uomo già caduto tutto ciò infine può essere grave nel momento della pace definitiva per quel che riguarda la situazione del popolo italiano di cui bisogna tener conto dico il popolo italiano fino al primo di maggio temeva di andare in guerra troppo presto e tendeva ad allontanare questa eventualità ciò è comprensibile ora due sentimenti agili nel popolo italiano primo il timore di arrivare troppo tardi in una situazione che svaluti il nostro intervento secondo un certo stimolo all'emulazione di potersi lanciare col paragatute sparare contro i carri armati eccetera voi voi immaginate nelle persone nei bar per le strade che dice vogliamo vogliamo emulare i tedeschi nel lanciarci con il paragatute non lo so il consenso probabilmente poteva ancora esserci ma in questi in questi in questi termini mi sembra un po' eccessivo questa è una cosa che ci fa piacere perché dimostra che la stoffa della quale è formato il popo italiano è soda fatta questa premessa da oggi nasce l'alto comando che De Jure sarà reso noto quando la maestà del re mi darà il documento che affida a me il comando delle forze armate il mio capo di stato maggiore generale è il maresciallo Badoglio io do a lui le direttive che saranno applicate sul terreno esecutivo attraverso i tre capi di stato maggiore dell'esercito della marina e dell'aeronautia quindi il re delega Mussolini Mussolini delega Badoglio Badoglio delega i tre capi di stato maggiore e delle forze armate così la cosa è definita resta tuttavia un punto che può essere oggetto di chiarimento ed è questo tanto il generale pericolo che l'ammiraglio Camagnari ricoprono le due cariche di sottosegreti di stato e di capo di stato maggiore di capo di stato maggiore ecco qui casca l'asino ora mi domando se per avventura queste due cariche non debbano essere sdoppiate per creare una situazione analoga a quella dell'esercito ecco così se lo pone come domanda aggiungo che l'alto comando non avrà che funzioni operative sarà ridotta all'essenziale non bisogna creare dei ministeri numero due però sappiamo che proprio la coincidenza delle cariche di sottosegretario di capo di stato maggiore di forze armate per l'aeronautica e la marina sarà un problema che si porterà fino al 43 l'alto comando è formato da un gruppo di uomini che hanno compiti operativi tutto il resto dell'amministrazione non riguarda questi uomini che devono dirigere forze armate dice Badoglio chiede di conoscere se oltre all'ordinamento stato dal Duce siano previsti altri comandi Duce e nessun altro comando Badoglio dichiara di non avere nulla da osservare nei riguardi dell'abbinamento della stessa persona dei due cariche di capo di stato maggiore di sottosegretario di stato per la marina quindi a lui va bene anzi preferirebbe che le cose rimanessero come sono attualmente data la giornaliera pratica che ha con Cavagnari e Pricolo vabbè che andrà male Cavagnari fa presente che allo stato attuale dell'ordinamento dell'amministrazione della marina la funzione di sottosegretario potrebbe essere considerata una sine cura il lavoro procede bene con i direttori generali e può essere disbrigato in due ore al giorno viceversa lo stato maggiore ha compiti molto più vasti e funziona come un vero ministero Pricolo si associa a quanto è stato detto dall'eccellenza Cavagnari ma propone la nomina di un altro capo di stato maggiore in modo che ve ne sia uno per le operazioni e uno per i servizi cioè soltanto per divisione di lavoro Graziani per quanto riguarda l'esercito ritiene opportuno non mutare nulla dell'attuale ordinamento lascerebbe le cose come sono generare o atta sotto capo di stato maggiore unitario che tratta tutta la materia e che farà le scarpe all'interessato come sappiamo Duce non ho detto che si debba fare la separazione delle cariche ho soltanto voluto porre il problema in considerazione che per l'esercito era stata riconosciuta questa opportunità Durinanzi Badoglio sentito anche starà a cene le questioni di sua competenza come capo di stato maggiore della milizia volontaria di sicurezza nazionale stiamo a posto sentiamo pure starà ci stiamo a posto Graziani fa presente che per la sede dell'alto comando dell'esercito sono state requisite due ville affrascati queste due ville potranno forse servire ma pensa di non muoversi da Roma Badoglio comunica che il suo comando non supererà venti ufficiali lui compreso però c'è il sottocavo di stato maggiore generale nonché sottosegretario del ministro della guerra che ha soldo che pure lui cercherà di fare le scarpe agli altri Duce è bene aver previsto questo trasferimento ma non credo che ci sarà bisogno di muoversi da Roma si guarderanno bene dal bombardarla che fanno bombardano Roma data la situazione è meglio che gli altri comandi siano a Roma d'accordo però non c'è una risposta è una domanda retorica che in qualche modo lasciava un po' così sul chi vive e con queste condizioni si entrerà il 10 giugno in guerra che vi devo dire il resto è tutta storia e avremo modo poi di ritornarci detto questo come al solito vi vedo a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao